Cos'è il tempo se non la storia della luce? L'essere umano vive tre ritmi calendaristici nei suoi tre foglietti embrionali che mantengono in equilibrio la sua struttura trina come spirito, anima e corpo o mente, emozione e corpo. Il tempo, mi piace farlo vedere così, l'ora, giorno, la settimana, il mese, l'anno o la vita e un ciclo. Questo ciclo temporale trino ha tre tempi, il tempo fiscale che inizia a gennaio, il tempo naturale o il tempo della terra, della natura, che inizia a marzo e il tempo animico che inizia a settembre. E il tempo religioso, praticato molto dalla chiesa, è ben impiantato nell'inconscio collettivo. Il bioritmo personale è un intreccio di queste tre energie che si rispiegiano in tutta la fisiologia organica e nel buon funzionamento sistemico. Partono da un momento zero, il momento del concepimento e sviluppano una struttura molecolare coerente o no con la luce. Se sei interessato o interessata a costruire la nuova vita in coerenza con la luce trina, e con il tuo progetto vitale ti lascio sotto i dettagli dove puoi trovare le info sia sul canale YouTube e sul sito www.naturalhealer.eu dove troverai tutti i dettagli per i corsi di geometria sacra, il disegno della geometria sacra necessario all'equilibrio e la comprensione mentale del tuo vissuto interiore è la neuroplasticità applicata per modellare la tua biochimica. Grazie a tutti.